Entra nel mondo di Welfare Moda e scopri tutti i vantaggi e i servizi a te dedicati. Il Fondo Pensione Complementare Previ Moda e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sani Moda, insieme per essere ancora più vicini a te. Sei una lavoratrice o un lavoratore del settore moda? Tanti servizi su misura per referenti, RSU e rappresentanti sindacali. Un'assistenza dedicata per l'ufficio personale delle aziende. Pianificare un corso o un'assemblea è più semplice. Grazie alle sessioni formative e informative su misura. Lo sportello online è personalizzato e puoi decidere tu come essere contattato. Bastano tre semplici step per prenotare un servizio di consulenza. Vai su welfaremoda.it e scopri il valore della consulenza smart. In videochiamata, telefonicamente o direttamente in azienda, scegli tu la consulenza che preferisci. Seleziona il servizio che desideri anche senza effettuare il login. Scegli comodamente la data e l'ora che preferisci dal calendario online e controlla che sia tutto corretto nel riepilogo. Ora, devi solo decidere come vuoi essere contattato. Compila semplicemente il form con i dati richiesti. Prenota la tua consulenza e attendi la mail di conferma. Puoi modificare o cancellare la tua prenotazione in qualsiasi momento o semplicemente aggiungerla al tuo calendario. Per accedere alla consulenza smart, basta un link. E per i lavoratori iscritti e non a previ moda, non serve il login. Inserisci i tuoi dati e accedi all'area riservata per avere ancora più servizi. Pianifica corsi e assemblee. Prenota una consulenza smart e scarica tutti i documenti informativi che desideri. Consulenza smart è il nuovo servizio a portata di clic per il comparto moda. Oggi come domani, Welfare Moda è sempre con te. Inizia la domani, Welfare Moda è sempre con te. La domani, Welfare Moda è sempre con te. Grazie.